Lotta tra la vita e la morte. Salvatore Bargione, lo studente di 19 anni di Vibo Valencia, coinvolto ieri nel grave incidente stradale in cui ha perso la vita un maresciallo dei carabinieri. Il giovane era alla guida di una Ford Focus che ha impattato per cause ancora tutte da chiarire contro la Peugeot 107 condotta dal maresciallo Biagio Procopio in servizio alla compagnia dei carabinieri di Vibo Valencia. Sulla statale 18, pochi minuti dopo l'impatto avvenuto alle 3.30 del mattino quando il cielo era ancora tetro, l'ambulanza del 118 che ha trasportato lo studente allo Iazzolino. Qui è stato sottoposto ad un primo delicato intervento chirurgico. Il giovane ha riportato gravi lesioni alla milza, al fegato, diverse fratture al bacino e al braccio destro. Nell'impatto Salvatore Bargione ha battuto violentemente la testa riportando un edema celebrale. Vista la gravità delle condizioni è stato pertanto deciso il trasferimento in elisoccorso al pugliese Ciaccio di Catanzaro. Lo studente è stato indotto a coma farmacologico. Anche se le condizioni restano stazionarie, i medici si sono riservati la prognosi. E intanto la Procura della Repubblica di Vibo Valencia ha sequestrato i mezzi coinvolti nel sinistro aprendo un fascicolo d'indagine per omicidio colposo e lesioni gravissime.